Grazie, buongiorno, sono Francesco Cappello, Enea, diceva poc'anzi Alfio La Rosa, ci siamo mossi dall'inizio, due anni fa, perché ora compie due anni, Fred, con questa iniziativa del forum regionale per l'energia distribuita, nel tentativo come Enea, come Università di Palermo, come CNRT di Messina, ma con tutti gli altri interlocutori, rappresentanti della società civile, dei sindacati e quant'altro, di muovere i cervelli siciliani e informarli e informarci sulla tematica delle fonti rinnovabili e su quello che è avvenuto in questi anni, anche alla luce di quello che è avvenuto in questi anni in merito agli aspetti e alle ricadute territoriali importanti di cui si parlava, lo vedremo poi più che altro alla fine del mio intervento. Il mio intervento, siccome si parlava del contributo della ricerca in Sicilia, come Enea si vedrà più avanti a impassare i vari tratti, parlerò un po' di di alcune delle iniziative che stiamo seguendo insieme ad altri interlocutori scientifici regionali, facendo un breve quadro e portando qualche numero, primo fra tutti quello del bilancio energetico e quello relativo anche ai consumi finali, a parole che sentirete, a direttiva comunitaria, non approfondirò le tematiche, ma mi occorre far lasciare il flash sull'importanza di andare a guardare i numeri, quelli segnati, quelli programmati, verificarne la rispondenza come la Regione sta facendo in merito per esempio al piano energetico regionale, allora l'Università di Palermo, dati dell'Enea, il CNR TAE di Messina si preoccupano di scrivere la parte importante, programmatoria, visionaria del piano e in questo momento la Regione ha fatto una verifica degli obiettivi più o meno raggiunti rispetto a quelli che ci si erano programmati alcuni anni addietro. I numeri sono importanti e il mio contributo mi auguro che possa andare anche in questo senso. Allora innanzitutto quando parliamo, perché ci servirà in qualche lucido seguente, quando parliamo di direttiva comunitaria, di consumi finali, di 20-20-20 o 17 per l'Italia o 7 come raggiungimento di obiettivi intermedio, 7%, questi numeri che sentiamo, 20%, 17%, dobbiamo riferirci a qualcosa, il qualcosa nel bilancio energetico di una Regione, per esempio questo è uno di quelli dell'anno 2005, dico uno perché poi ci sono varie interpretazioni, bilancio dall'Università di Palermo, bilancio questo qua fondamentalmente dell'Enea, relativo al 2005, dal quale deduciamo un consumo interno lordo, lo vedete scritto alla destra, di 19 megatep, milioni di tonnellate di petrolio, tenete conto che quello lordo italiano è circa 190 milioni di tonnellate di petrolio equivalente e nel numero però al quale si deve fare riferimento relativamente al 20-20-20 o per la Sicilia 15-9% al 2020 non sono questi 19 megatep che tengono conto anche dell'energia per la produzione di energia elettrica consumata nelle centrali, ma tengono conto di quello che è chiamato uso finale per uso energetico che è questo 8080 che vedete in fondo, quindi il riferimento qualora dovesse in seguito essere utile sarà questo numero che è un po' rivedo abbastanza più piccolo dell'altro segnato in alto perché non valorizza l'energia consumata, un valore se la esprimiamo in particolare quella elettrica in kilowattora presuppone che ci sia un equivalente consumo di circa 886 grammi di petrolio per ogni kilowattora consumato, mentre in effetti la quantitativa è nettamente maggiore, tra l'altro in questa tematica si entra anche in un problema di statistiche del bilancio energetico nazionale che valorizza l'energia elettrica invece a 220 grammi di petrolio a kilowattora ed Eurostat invece il sistema statistico europeo al quale converrebbe in effetti agganciarsi che la valorizza appunto da 86 grammi a kilowattora. La cosa alla fine è di poco conto perché dal punto di vista tecnico i consumi sono quelli e ci si può ragionare, però dal punto di vista del linguaggio è importante capirsi. Allora a questo punto siamo in grado di guardare anche un po' meglio ad alcuni di questi lucidi, prendo io il burden sharing, questa è la traiettoria prevista dei consumi regionali, dei consumi da fonti rinnovabili due in alto e siccome a parte l'obiettivo 2020, vedete 2012, 14, 16, 18, ci sono degli obiettivi prefissati di consumo di energia, produzione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una traiettoria anche dei consumi finali, quegli usi finali lordi di cui vi parlavo, che è stato stimato ad esempio per la Sicilia, si partiva da consumi finali lordi di circa 7,7 megatep nel 2005 e in effetti si prevede che anche grazie all'efficienza energetica si arrivi intorno al 2020 a un abbassamento di questi consumi, di questa intensità energetica con 7,5 megatep. corrispondentemente vedete per la Sicilia si partiva da un consumo di 208 kg tep da fonti rinnovabili nel 2005 come hanno iniziato il riferimento e a una produzione di finale di 1.202 megatep e 2 da fonti rinnovabili, il che si traduce facendo un rapporto delle due cose con una percentuale di produzione di rinnovabili rispetto al consumo di energia del 2,7% che dovrebbe essere nel 2012 arrivata al 7 che dovrebbe arrivare per la Sicilia al 15,9 nel 2020, cioè nel 2020 dell'energia che consumiamo complessiva, non soltanto elettrica, vale in particolare per quella industriale, per quella della pesca, per l'illuminazione, per il riscaldamento domestico, di tutta questa energia una parte significativa o più o meno significativa, il 15,9% il 16% dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili sia elettriche, lo trovate scritto in alto, FRE, sia termiche e FRC calore. Chiaro? La cosa mi interessa in particolare perché se guardiamo allo sviluppo da 153 TEP di fonti energetiche elettriche nell'anno di riferimento a quello che dovremmo avere a 584 KTEP al 2020 e guardiamo anche quelle termiche dall'altro lato con un incremento del 282% su quelle elettriche rispetto all'anno iniziale e del 1000% rispetto ai 55 dell'anno del riferimento del 2005, delle fonti rinnovabili sulla parte calore, ci accorgiamo, guardando qualche numero, ci accorgiamo, vi prego di guardarli là in quelle scritte in rosso, perché mi sono preso la briga, è un lucido che presento sempre e che tento di aggiornare in modo semplice, non ho messo elaborazione né a Palermo ma non è così pretenziosa, però i numeri sono quelli e alla fine mi ci ritrovo. Troviamo un riassunto che alla fine mi dice che attualmente se tutti gli impianti eolici autorizzati andranno in esercizio e grossomodo ne sono stati utilizzati, lo vedete qua, potenze eoliche in esercizio al 12 2011, 1680 MW, è un dato terna, in effetti la regione ne ha autorizzato circa 1744, forse qualcosina in più, quindi siamo grossomodo quasi a regime con gli impianti eolici installati. Idem la potenza fotovoltaica che lì vedete segnata, 836 MW, ma in effetti già si è a quasi a 1000 MW, che purtroppo non rappresentano il 50% dell'energia, perché bisogna la Sicilia come potenza installata, purtroppo il fotovoltaico, piccolo flash, lavora 1500 ore l'anno, mentre una centrale termica da 1000 MW lavora 8000 ore l'anno, a parte qualche fermata per motivi tecnici, quindi c'è una differenza purtroppo notevole, che va però tenuta in conto perché i conti e i bilanci vanno fatti quadrare. Allora, tornando comunque alla cosa, guardate, quegli 0,46 MW sono circa 460, KW, se andiamo all'immagine precedente. Guardate che al 2020 noi dovremmo produrne, per energia elettrica, e lì di energia elettrica stiamo parlando, fra l'eolico e fotovoltaico, 584. Cioè, voglio dire, in altre parole, non siamo così lontani, già al 2012, se tutto è una stima con tutti gli impianti eolici in esercizio, gli fotovoltaici in esercizio, però è un numero, tutti collegati, per carità, però abbiamo ancora otto anni, come Sicilia potremmo spingerci e ragionare in modo più calmo, sulla fonte rinnovabile, in particolare quelle elettriche, in modo più calmo e portare a regime anche economico per la Sicilia, cosa che non è avvenuta come ricaduta in Sicilia, non soltanto energetica ma anche economica, portarla maggiormente a regime. In altre parole, calma, riflettiamo, è il momento della politica, come diceva Castiglione, riflettiamo, ragioniamoci e c'è gente che è in grado di fare un minimo di ragionamento e vediamo di, addirittura per la parte elettrica, spingiamoci anche oltre quello previsto dal piano energetico, vedremo che abbiamo superato, ma anche dal 2020, dal burden sharing, spingiamoci anche oltre, ragioniamoci sulle aree, sulle aree idone, cosa che la Regione tra l'altro sta facendo. Se guardiamo appunto, ma solo per dimostrare cose, ovvietà, cioè nel 2009 guardate, gli impianti eolici erano per una potenza di 1147 MW e il fotovoltaico 44 MW e coprivamo dell'energia elettrica il 7%, mentre nel 2011, tenete conto, l'eolica appunto da Titerna 1680 e 865 MW di fotovoltaico e tenete conto, guardate qua, il PEAS a proposito di raggiungimento obiettivi per chi bisogna farsi i conti, il PEAS prevedeva al 2012 1500 MW, al 2011 già ne avevamo 1680, ma non era possibile prevederlo, il risvolto impetuoso che c'è stato, ha fregato noi la Regione, l'Enea, l'Università, non ci sono problemi, ovviamente se tu ci metti i soldi al livello al quale sono stati messi in Italia è chiaro che non c'è piano che tenga, però in questo caso in positivo perché anche il fotovoltaico l'abbiamo abbondantemente superato, nessuno prevedeva appunto quell'incentivo del conto energia ai tempi in cui il piano energetico venne redatto e quindi in seguito a ciò guardate che i circa 3000 GWh prodotti attualmente come dato Terna fanno sì che del fabbisogno nostro all'ordo delle perdite già copriamo il 13%, parlo dell'energia elettrica, altra cosa è sul fabbisogno energetico, ora lo vedremo, questo qua l'abbiamo capito, circa il fabbisogno energetico era nel lucido precedente, siamo con la sola energia elettrica, quindi con le sole fer e siamo circa fra il 5,5% e il 6% del fabbisogno energetico finale, lordo e quindi come obiettivo intermedio del burden sharing siamo lì per raggiungerlo, anche perché io non ho quantificato, non avevo i mezzi, guarderò meglio, la parte invece il contributo delle fonti rinnovabili di tipo termico, quindi probabilmente il 7% di intermedio al 2012 come burden sharing già l'abbiamo probabilmente raggiunto e suppongo anche superato, quindi possiamo ragionarci, guardate questo tanto per capire il ragionarci anche se è cambiato l'incentivazione sapete tutto, ma si sono abbassati pure i prezzi devo dire, degli impianti, guardate non l'ho neanche aggiornato perché non era importante, avevamo circa 14.000 megawatt di istanze depositate in regione come potenze fra eolico, biomasse, fotovoltaico e altro, quindi parco teoricamente di persone, di società che vogliono realizzare le impianti ne abbiamo. Tenete conto che la stima per raggiungere soltanto con le fonti rinnovabili di tipo elettrico l'obiettivo nostro siciliano, basterebbero un 3.000 megawatt di eolico e un 3.000 megawatt di fotovoltaico e raggiungeremmo, non rispettando però l'impegno per le fonti calore, per le FRC, tanto per intenderci, ma già con le FRE potremmo raggiungere con, tra virgolette, un piccolo si fa per dire perché già siamo quasi a 2.000 megawatt di eolico e a 1.000 megawatt di fotovoltaico, raddoppiando praticamente il quantitativo installato quasi, potremmo raggiungere già l'obiettivo 2020. Vedremo poi alla fine che cosa possiamo e non abbiamo considerato l'eolico offshore, non abbiamo considerato la possibilità di utilizzare il combustibile laddove non funziona del tutto il sistema di rifiuti zero, il combustibile comunque derivato dal rifiuto, a Palermo, non ricordo adesso, non ho una buona memoria da questo punto di vista, quante tonnellate di legno ogni anno, un discreto quantitativo di tonnellate di legno ogni anno, vengono raccolte dai rifiuti e potrebbero venire utilizzate per essere anche bruciati, tra virgolette, o per la produzione di biocombustibile. Dico bruciati, lo dico perché sono stato, mi permetto di suggerirlo, a guardare un impiantino in Puglia, Calimera si chiama, e l'impianto si chiama Fiuses, un impiantino che manco in un'area industriale, manco si capiva, sapevo che ci doveva essere un impianto a biomassa, cercavo, ho visto, è l'unico col camino, andiamoci, ma il camino non fumava. In effetti l'impianto era in funzione, raccolgono, era da un megawatt l'impianto, raccolgono un certo numero di tonnellate nel giro di 15 chilometri di ramaglie di olivo, le stoccano, poi le frantumano, le portano lì, hanno uno stoccaggio per 10 giorni, con la pala meccanica ogni tre orette fanno il carico e l'impianto funziona, produce energia elettrica, ORC, tecnologia tipo quella della centrale Enel, però il vapore non è vapore d'acqua, ma è vapore organico, la società ci guadagna, l'investimento l'ha fatto con la banca, prende soltanto l'incentivo per le fonti rinnovabili, non il conto energia, l'equivalente diciamo per la biomassa, loro prendono i 28 centesimi a kilowattora per la biomassa e con quello, con il business plan, tra l'altro gliel'ha pagato, in Puglia gliel'ha pagato l'IRFIS, gliel'ha finanziato l'IRFIS, perché l'IRFIS nostro andava cercando dove entrare in società perché poteva avere anche un ritorno dal punto di vista dell'investimento bancario maggiore rispetto ai classici investimenti. Vabbè, cominciamo a entrare di strada, ce n'è da fare, c'è l'energia distribuita di cui parlava Angelo Consoli, il solare termodiname di cui si parlerà domani, ma qualcosa la diremo pure oggi, come Enea sul fotovoltaico di nuova generazione, le celle a combustibile qualcosa noi insieme al CNRTi che effettivamente è il leader non solo italiano in questo settore e poi altre tematiche fra cui quella importante è la tematica dell'eco-building o comunque la tematica dell'efficienza energetica e non soltanto in edilizia, è una tematica che permea tutto il discorso energetico. E allora, come contributo? Come contributo Enea fra le varie cose mi piace ricordare in questo momento che insieme, non da solo, insieme all'università perché entra quasi regolarmente il CNRTi che entra ormai come partenariato quasi regolarmente, insieme a un buon numero di industrie, insieme ad ARCA che è l'incubatore di impresa, consorzio universitario, lo dico importante non soltanto perché Fabio Montagnini è qua, ma perché effettivamente è un consorzio che funziona e in questi anni abbiamo lanciato tante iniziative, alcuni progetti, alcuni andati bene, altri no, per quisquiglie, per motivi amministrativi in qualche caso incredibili. In particolare in questi progetti, fra i vari progetti, qua non sono tutti, vedremo che ce n'è qualche altro più avanti, di questi progetti di partenariato per il PON, il DISAM, diciamo di sviluppo e innovazione del settore manufatturiero, fra cui intendiamo anche la parte di sviluppo di impiantistica per le fonti rinnovabili, o quello a MAR, ma in questo caso riguarda il settore marino, insieme al CNR sempre, ma di Capogranitola a Marsala, a Marsala del Vallo. Ecco, questi due progetti sono andati, ma un altro, SISTERS, quello in alto, lo vedremo più avanti, che parlava di solare termodinamica e non soltanto, è un progetto dal quale poi è scauturito una collaborazione che continua tuttora e qualcosa comincia ad arrivare, tranne il progetto SISTERS, qualcosa comincia ad arrivare in porto. DISAM lo troverete qua, il lucido è inutile parlarne, lo vedrete, distretto da un'altra tecnologia, è stato ammesso a finanziamento, adesso si è in fase di concordare col Ministero. Riguardo al solare termodinamico, conoscete l'impianto di Priolo Gargallo, questa è attualmente quella standard, la prima Enea, ma già ci sono dei miglioramenti in poligenerazione, si dice, e in questo caso con i sali fusi l'accumulo, un po' la storia di Priolo la conoscete, questo è l'impianto presso l'Enea Casaccia, SISTERS in particolare, tornando appunto agli impianti solari termodinamici, era un bel progetto con l'università col quale portare avanti un ciclo trigenerativo, la distillazione dell'acqua salmastra e la produzione di combustibile mediante conversione termochimica dalla biomassa stessa. Purtroppo per un motivo un cavillo burocratico, una delle società non aveva la copertura finanziaria, non poteva vantare, quindi chi bovinamento al Ministro è giustamente, è saltato e invece era una cosa importante, ma da quello sono nate tante altre cose, Fabio mi correggerà perché lui un po' pure l'anima insieme ad altri colleghi, Fabrizio Fabrizi, insomma colleghi Enea, ecco fra le varie proposte una centrale, questo è Filardo pure, il professore Filardo che da anni persegue tenacemente la cosa, realizzare un impianto da un megawatt poligenerativo presso l'università di Palermo. È quello che avevamo lanciato, questo un po' io devo dire, me ne prendo con piacere ovviamente almeno la paternità, vedere se era possibile presso Termini Merese portare innovazione con impianto sempre poligenerativo a consolare la concentrazione. Qui troverete per esempio l'esempio del tre BIOS che è con il Comune di Fra Enea e il Comune di Roma per capire insomma che le cose si possono fare, gli accordi si possono fare. Uno dei progetti finanziati invece col POR dalla Regione Siciliana, sempre in accordo sul solare termodinamico, in accordo con l'università, con ARC eccetera, è il progetto Cesta, perché il solare termodinamico tra parentesi non è soltanto l'impiantistica ma il controllo dell'impiantistica, il controllo della società che ci sta dietro se devo metterla su, anche perché parliamo di impianti che l'università non fa soltanto a scopo scientifico ma fa anche a scopo economico perché col conto energia per il solare termodinamico è chiaro che la cosa se ci si sbriga potrebbe pure risultare conveniente se ci sbriga. Vabbè Cesta è un progetto Enea che si occupa invece della parte cibernetica dove per cibernetica intendo l'informatica in generale che va dalla gestione della società delocalizzata ai sistemi di controllo di un sistema di generazione poligenerativo come può essere un impianto solare termodinamico con altri impianti allegati e biomasse e pericento. Costo del progetto, questo qua ve lo troverete, la idea SNE, SRL in particolare che fa capo sempre a una società palermitana e poi a Lenea e altri soggetti. Sempre da questa iniziativa nasce, qui partecipa ARCA, lo trovate là in giallo, con la società elettrica egiziana ma con altri partner, il progetto EMPiMed che si occupa sempre di solare termodinamico poligenerativo nell'ambito di un progetto comunitario che serve per le zone costiere di confine. Poi c'è il solar air net, è un programma che serve a fare in modo che i soggetti pubblici facciano d'accordo con le aziende ovviamente territoriali, la Francia con quelle francesi, l'Italia con quelle tagline, in merito al CSP, cioè al solar a concentrazione di piccola taglia, riesca in qualche modo a muovere, a fare dei bandi che permettano a queste aziende nostre di crescere dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista produttivo. Lenea, la regione siciliana tramite l'assessorato regionale dell'attività produttiva, partecipa e a cascata ovviamente ci sono ARCA, ci sarà l'Università di Palermo, eccetera. L'efficienza in edilizia, vado rapidamente riguardo alla rivoluzione industriale sulla quale mi piacerebbe pure parlare ma non c'è il tempo, mi corre l'obbligo di far rilevare che le fonti rinnovabili non sono soltanto il fotovoltaico che noi immaginiamo, ma c'è una parte efficienza o fonti rinnovabili distribuite sugli edifici, in particolare in quelle sottoposte ristrutturazione di Levanto per i nuovi edifici, già a partire dal primo giugno di quest'anno perché era il 31 maggio la scadenza, il 31 maggio 2012, c'è l'obbligo di installare un certo quantitativo di fotovoltaico, questa volta ecco gente, non è stato rimandato. Per gli impianti solari idem, qua lo dirò un'altra volta perché avevo portato questo lucido, anche qui dal 31 maggio sui nuovi edifici, su quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante va installato un certo quantitativo di fonti rinnovabili solare termica, che si può utilizzare non solo per l'acqua calda sanitaria, lo sapete, ma anche per alto come il riscaldamento. La direttiva comunitaria, la 31-2010, che ha sostituito la 91-2002, parla di edifici a energia quasi zero, ma appunto ormai quella energia quasi zero è arretrata rispetto agli edifici di cui parlava anche Angelo, quella è energia positiva, ogni caso in qualche modo deve contribuire tramite l'efficienza, se ne parlava ieri con un collega, tramite l'efficienza innanzitutto, perché da folle mette un impianto fotovoltaico per poi avere delle piastre elettriche per il riscaldamento, perché l'energia che tu produci effettivamente è un bene che laddove possibile va dato alla collettività, lo spazio che tu hai è prezioso, non sprecarlo, mettete una pompa di calore nella peggiore delle ipotesi, che poi non è così brutta. E anche nel settore dell'inizio, insieme all'università, collaboriamo e avevamo presentato anche qui con l'università un progetto di polo tecnologico, purtroppo questo non è andato a finanziamento, ma guardate che la lotta era tremenda, però resta in ogni caso il partenariato. Con la Regione stiamo collaborando in merito alla certificazione energetica di edifici, con un supporto, un software che spero prima o poi riusciremo a dare alla Regione, all'assessorato energia, circa la verifica degli impianti termici, collaboriamo con la provincia di Trapani, che proprio stamattina sentivo, non c'è il tempo di spiegarlo, ma solo per dire che basta poco, guardate, una casa a Palermo, dove era? Da classe E, stiamo parlando, lo è la taschiera su scantinato pian terreno e primo piano, ecco con 1,54 m di solare termico e 7 m quadrati di fotovoltaico, se costruita originariamente in classe E, cioè costruita tutto sommato bene, però la cosa è stringente, ecco con questo poco di fonte rinnovabili, una pompa di calore, piuttosto che la caldaia, con un COP medio 3, e guardate che adesso ci sono in commercio, andrebbe già in classe a più, non considerando attualmente la parte estiva di climatizzazione. Vabbò, andiamo rapidamente avanti, come Enea ci stiamo muovendo anche in campo geotermico, con l'assessorato regionale dei beni culturali, e ci arrivo subito, ecco qua ci siamo mossi, c'è l'ingegnere Sarnasardo, qui con l'assessorato beni culturali, perché quello degli edifici storici nei centri, nelle città è una tematica importante, e si deve vedere di affrontarla, addirittura stiamo tentando di affrontarla con la geotermia, qua è Palazzo Mirto, che conoscete qui, è una bellissima residenza ora museale, vicino Piazza Marina, e lì si è fatta analisi energetica, vado rapidamente con le problematiche, mi ha fatto rilievi, tutt'ora i misuratori sono là e devo andarli a prendere, a vedere date, hanno fatto pure i giovani architetti tecnici delle simulazioni, anche per vedere la rispondenza fra quello che si vedeva e si calcolava spannometricamente, e quello che dicevano alcuni software che ormai lavorano in modo potente, presso la biblioteca regionale, qua in corso Vittorio Emanuele abbiamo elaborato pure un progetto presentato per il finanziamento al Ministero, come Nea ci occupiamo del 55%, di gestire il sito del 55% a livello nazionale, abbiamo fatto come Nea un software, non è la fine del mondo dal punto di vista informatico, però dal punto di vista pratico viene, devo dire, alla fine alloggiato perché permette di risolvere con una buona anche approssimazione in modo rapido una problematica della certificazione senza fare spendere troppi soldi ai progettisti quando nel caso di vendita di una casa riesce a dare presto una risposta circa la classe energetica della casa e il consumo standard. Poi tenete conto di quell'altro che è bolle in pentola a proposito di terza rivoluzione industriale o comunque di movimenti intorno all'energia, la qualificazione degli installatori e formatori, perché guardate che dal 1 agosto 2013, teoricamente, poi in Italia tutto può essere aleatorio, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i sistemi geotermici a bassa temperatura, le pompe di calore potranno essere installati soltanto da personale che ha seguito dei corsi di formazione, c'è di mezzo le associazioni, c'è di mezzo anche l'Enea che con un progetto finanziato dalla comunità europea ha messo su un sistema per la qualificazione. Mi piace ricordare, ma soltanto perché vedevo qualcosa a proposito di... sentivo parlare di informazione, un progetto invece ormai è passato, anni fa, però insomma il risultato, devo dire che è stato un bel risultato, si chiamava Sicenea, nel 2008 l'abbiamo chiuso, prevedeva delle cose sempre utili che vedrete, si ripeteranno, magari non le faremo noi, in questo momento c'è Orsa che si sta occupando, si occuperà di... perché la regione da questo punto di vista l'assessorato e il Dipartimento di pianificazione ci sta dietro, perché è importante guardare, informare, ma informare tecnicamente, il grande pubblico questo progetto lo provvedeva pure nella linea E, però i tecnici erano appunto A e sono stati formati 3.800 tecnici praticamente in tre anni, insomma è stato un discreto lavoro e... Sì, 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 non l'ho neanche portati per non appesantire troppo, abbiamo fatto gli uffici, costituito una rete di uffici energia provinciali e qui trovate qualcuno dei... potrebbe pure riconoscersi se c'è qualcuno da pensare, comunque c'è la gente... Giovanni Mercorillo credo che sia, ecco, da qualche parte c'è, l'ho visto poc'anzi in sala, anche lui ha partecipato e questo era presto il centro Enea. Poi l'illuminazione pubblica, cito Lumière, ma non c'è bisogno di scomodare l'Enea, anche se è un progetto che potrebbe essere valido e interessante, ma ci sono dei progettisti, qua in sala c'è Francesco Bonanno che ovviamente salterà sulla serie, ci sono dei progettisti in gamba per poter aiutare. L'informazione perché, guardate, per esempio il 55% andiamo alla parte dolente, abbiamo finito. L'informazione perché, questo è il dato 2010 mi pare, in Lombardia di sgravi 55% sono stati portati come soldi spesi, il 55% resterà in dieci anni in Lombardia, 1 miliardo 141 milioni di euro, in Sicilia 80 milioni di euro. Parlo cappotti, finestre, collettori solari, gli interventi un po' li conoscete. Idem nel 2008 c'è un rapporto tremendo, vero che c'è una capacità di spesa superiore, ma in Sicilia non ci siamo fatti valere. Qua 550 milioni resteranno in Sicilia, in Lombardia 40 milioni resteranno come valore in Lombardia. È negativo, diciamo come nota positiva mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno e dire, vabbè, vuol dire che sono ancora lavori che dobbiamo fare. In Sicilia, in Lombardia se li sono sparati da noi, vuol dire che ancora possiamo cambiare finestre, installare collettori solari. Tra l'altro guardate che il solare termico è un settore che soffre. E qua non ci sono i rappresentanti di Accomandita, non me ne frega niente pubblicità o non pubblicità, ma la cosa vale per tutti. Accomandita aveva aperto una sede a Palermo e la stanno in qualche modo ridimensionando perché manca il mercato, si è spinto troppo sul fotovoltaico, si è lasciato un po' da parte il, parlo per i piccoli impianti, sul solare termico. E vabbè, qua lo trovate. Idem per gli impianti fotovoltaici. Cos'è successo? Prima, quando presentavo il solucido, dicevo cosa sta accadendo. Ormai è successo. Cioè, noi prevedevamo i numeri, ho lasciato quelli di anni fa, installando quei 14 mila megawatt di impianti si poteva coprire come energia elettrica tutta l'energia elettrica di cui ha bisogno la Sicilia ogni anno. Tenete conto che con un investimento stimato, parlo 2009, di 34 miliardi di euro, i prezzi sono abbassati, l'investimento non sarebbe più questo. Però se voi tenete conto che gli impianti fotovoltaici, un impianto da un megawatt fino a qualche anno fa, fruttava 750 mila euro l'anno e al proprietario del terreno per l'uno o due ettari venivano dati 10 mila euro, capite bene che non è l'anno, tenete conto che non è proprio paridetica la cosa. Questo il cetri, allora Alessandro Collura se ne era occupato, avevamo fatto, ma lui in particolare aveva sviluppato, è dimostrato con i numeri cosa che capivamo, che per gli impianti grossi la grossa fetta, il 69% va via, il 20% resta come lavoro locale e qua venivano considerati pure quelli superiore a 200 kilowatt, perché se si fosse parlato di quelli superiore al megawatt, la fetta che andava via era nettamente maggiore. Mentre per gli impianti piccoli di cui parlava poc'anzi anche Angelo Consoli, è chiaro che la fetta che resta era senz'altro superiore. Questo non è avvenuto, ai tempi con Fred, queste sono le immagini di allora, c'eravamo posti e questo è il decalogo di promuovere la cosa e speriamo, sono passati due anni, speriamo nei prossimi anni, grazie al contributo di tutti e anche speriamo alla Regione che ora si è strutturata in un modo diverso, l'assessorato prima l'avete visto si chiamava Industria, adesso è proprio l'assessorato Energia, c'è un Dipartimento Energia, c'è un ufficio che si occupa della pianificazione, a parte l'altro che si occupa dei contributi, ma adesso c'è un ufficio di pianificazione. Ecco, speriamo che nella nuova organizzazione vengano valorizzate sia in fase pianificatoria, come diceva giustamente Giuseppe Castiglione, che in fase finanziaria, però la Sicilia non può spendere perché non ha i soldi per coprire la parte, mi pare, del restante contributiva alla realizzazione di filiere produttive o pagare, come capita, lo dico perché è il CNR che ha già realizzato degli impianti a Messina. Ecco, allora il mio messaggio è assolutamente positivo, vi dicevo e voglio chiudere con quello che ho detto perché vedo che c'è pure la dottoressa Marce no. Come obiettivo la Sicilia, dal punto di vista energetico, ha raggiunto sicuramente il 7% se teniamo conto di obiettivi intermedio. Quindi sulle fonti elettriche già siamo quasi al raggiungimento dell'obiettivo finale per le ferre elettriche. E allora abbiamo il tempo di riflettere e pianificare, muoviamoci tutti, stiamo dietro alla Regione, non solo per tampinarla, ma perché ovviamente c'è bisogno di scelte politiche e il tecnico, l'ingegnere Cappello può ragionare tecnicamente, ma poi deve sentire Castiglione, deve sentire Federagri, deve sentire chi può lavorare nel settore o chi fa mineolico per cercare di pianificare nel modo migliore. Ho concluso. Grazie. 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 Grazie.